Cross, intervento di Terranova, e poi Pigliacelli che esce palo al piede, ma dove va? Pigliacelli sino a metà campo, saltato Gori, azione personale di Mirko Pigliacelli, è arrivato al limite, poi scarica su Manconi, impazzito Pigliacelli, ma di sicuro non ha sbagliato Manconi, carica il destro, la respinta! L'amore per 2, erano papi per fare, è arrivato al profilo di Ricciolo, e in più, in più, in più! L'amore di Ricciolo, era un salato, era un salato, era peggio a piegare, per fare un mondo del vincente, e in più, grazie a un Allahu! Esma' attenzione a tutti, esma' una palla待 l'amore! Poi Poi Non funziona Non funziona Wow C'è 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 E C'è 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 Stem Stel Non passare e poi scornare! Tu devi durare! Grazie! con Ubueno Ubuoreno Campos contro l'attacante Ubueno il 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione!